Barbara Tosaco, cos'è Borgo Bambino? Borgo Bambino è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini che ha una serie di attività per superare le povertà educative. Partito tre anni fa, siamo nella fase conclusiva e l'azione di cui parleremo oggi è Borgo on the road che è questo camper educativo che andrà in giro per le borgate di Manfredonia ma non solo e che abbiamo fortissimamente voluto operativo in questo periodo anche dove siamo tutti bloccati perché è un segnale molto forte che vorremmo dare alla generazione, a questi ragazzi che sono un po' figli nostri e che sono in questo momento confinati a casa e con l'azione del Borgo on the road stiamo cercando di dare un segnale forte e chiaro che le attività riprenderanno che ci saranno delle attività da fare insieme sul territorio, nelle aree naturali che abbiamo e che la relazione tra i ragazzi ricomincerà, ricominceranno le attività tutte in sicurezza tant'è che l'azione del Borgo on the road ma non solo, anche tutte le attività di Borgo Bambino saranno realizzate in questa fase con la collaborazione dell'associazione PAS e della protezione civile che ci permetterà di operare in sicurezza sia con i dispositivi ma anche con tutta l'assistenza che in questo momento è necessario per riprendere a fare delle attività educative, ricreative e ludico.